Come ha fatto Miranda Tate ad avere una posizione predominante nel consiglio della Wayne? Si è incontrata con lui, si è andata a letto, come ha fatto? No, che noi sappiamo. Oh, si vede che non sapete praticamente niente. Dov'è Bane? Gli abbiamo detto che ero già... Dov'è quello? Parli del diavolo e spuntano le corna. Insomma, si può sapere che cosa è successo? Tutto procede secondo i piani. Oh, davvero? Ti sembra che io stia dirigendo la Wayne Enterprises adesso? Il tuo attacco al Palazzo della Borsa non ha funzionato, amico mio. E intanto le mie squadre di operai vanno in giro, perforando la città senza sosta, 24 ore al giorno. Adesso devi spiegarmi in che modo questo aiuta la mia impresa ad assorbire quella di Wayne. Essi. No, resta qui. Comando io. Ti senti al comando? Ti ho pagato una piccola fortuna. E questo ti dà potere su di me? Che significa? I tuoi soldi e la tua struttura sono stati importanti. Finora. Che cosa sei tu? La resa dei conti di Gotham. Sono qui per porre fine al tempo rubato che avete vissuto. Sei il male assoluto. Sono il male necessario. Che cosa sei tu?